E soprattutto ci sono queste coppie viste che rappresentano anche spesso delle unioni poi nella vita di tutti i giorni, fidanzati, fratello, sorella, padre e figlio, madre e figlio. Questo davvero fa capire che il nostro sport non è uno sport dell'elite, uno sport di chi ci arriva, è uno sport che parte dalla famiglia e ritorna alla famiglia dentro una coltazione. Sicuramente la passione fa tantissimo, quella che poi viene ereditata dai propri nonni, dai propri anziani, dai propri padri. La passione che poi viene raccolta dai... Sì, però sono statuti accanto, sono statuti accanto, così come per esempio l'equipaggio numero 56, l'equipaggio di De Luca Alessandro e di De Glor, Gianluca, anche questo è una Peugeot 106, che adesso può prendere il via, tutta rossa, come si trattisce alla più classica tradizione delle auto da gara. Grazie amici, luce nella notte, si comincia meglio anche per voi, numero 56. Grazie amici, luce nella notte, ma è nettoppio di De Luca Alessandro e del Grazie a tutti. Grazie a tutti.